Giorno numero 4 senza il canale Ragazzi le ho provate tutte Ragazzi se vi arrivano dei cuori sotto i commenti Non sono io Ho provato a contattare l'assistenza Chi è che suona quest'ora? Domenica Tranquillo Ma che diavolo è sta roba? No ragazzi questa cosa inizia a diventare fin troppo strana Cioè io non ho ordinato nessun pacco Ma soprattutto perché c'è scritto YouTube Hacked Qui ragazzi il pacco sembra manomesso Sembra che qualcuno lo abbia aperto durante il trasporto Che fosse davvero un pacco destinato a me? Ok Spugna nera Direi che possiamo toglierla E questo Oddio Ma Ma è il silver play button? Per i 100.000 iscritti? No ragazzi Cosa c'è qui sotto ragazzi? Open me Sembra un messaggio Con una freccia? Provo a mostrarvi tutto ragazzi Ciao and fire Sei pronto a giocare? Con un QR code Con un QR code Oddio Proviamo a scansionarlo ragazzi Io ragazzi non so proprio cosa dire Cioè Quale pazzo malato di mente Va a manomettere un pacco Per inserire sotto al silver play button Di YouTube Un messaggio Che contiene un QR code Che va a scaricare un file da internet Apriamo la cartella E davanti a noi Troviamo Un file Chiamato Enfire.exe Con a fianco Un password Enfire.tar Quello sulla sinistra Potrebbe realmente essere Il virus più letale del mondo? Cioè L'hacker Vuole metterci alla prova In qualche modo? Io ormai non so cosa pensare ragazzi Sono disposto a tutto Voglio riprendermi il mio canale Oggi Quindi Sono disposto anche Ad eseguire questa roba qua Pronti? Doppio clic Ciao Enfire Quello che è apparso Pare essere un terminale Scuro Non c'è nulla al suo interno Per adesso abbassiamolo Clicchiamo ad esempio su avanti Vediamo che succede Inserisci la password Tempo rimanente 10 minuti La password Di che password sta parlando? La password del mio canale Devo inserire la mia password? Proviamo Sbagliato Magari ragazzi ci entra con questo zip Proviamo ad aprirlo Vediamo cosa c'è al suo interno Clown Pitchfork Sweets Ma Lightning Cowby's Shock È uno zip dentro uno zip Demon Werewolf Skeletal Cosa sono? Mostra di Dungeons & Dragons Queste cose Qui ragazzi possiamo andare avanti all'infinito Quanti zip ci sono qua dentro? Disguised Vampire Devilish No ragazzi No ragazzi allora Questo non è il modo giusto Di approcciare questo problema Dobbiamo usare la testa ragazzi Quanto tempo ha a disposizione ancora? 6 minuti e 20 secondi Forse è un tempo sufficiente Per scrivere uno script Ragazzi dobbiamo fare uno script Che ci consenta di entrare all'interno Di una serie di zip Estrarli e raggiungere Quello che è il file Che l'hacker ha nascosto Vado a scrivere un po' di codice Arrivo tra un secondo Manca un minuto e 25 secondi Ho scritto questo script Spero che funzioni Dovrebbe riuscire a estrarre In maniera costante e continua Qualsiasi file all'interno di una cartella Andiamo subito a spostarci In nfire hacked Esatto Entriamo qui dentro Quanto tempo ho ancora? Ah un minuto e 0,4 Forse è meglio che mi muovo A questo punto Se ho scritto bene il tutto Non ho avuto tempo di testarlo Dovrei riuscire In questo modo A ottenere il contenuto del file Incorciamo le dita 30 secondi Let's go Quanti ce n'erano? Una marea Spine chilling Sclital bloody 15 secondi ragazzi Bravo per aver capito il mio trucco Te la sei meritata La password è Never Guess password like this Va bene 5 secondi Proviamo In fretta ragazzi Abbiamo 3 secondi Prego Via Bravo ce l'hai fatta Esci Ha generato un altro file Proviamo ad aprirlo 2.txt Proviamo a trascinarlo sul desktop ragazzi Inserisci la parola chiave Per il file cifrato Dell'archivio output Io che ne so di qual è Un'altra password È quella che ho appena trovato Proviamo In che senso il file è danneggiato? Ragazzi non sono convinto Che con gli strumenti convenzionali Di Windows Io sia in grado di analizzare Questo file zip Credo proprio Che sia il momento Di tirare fuori I cali Linux Ragazzi ci troviamo in questo momento Nella home screen di cali Linux Cali è un sistema operativo Pensato appositamente Per la sicurezza informatica In particolare Viene utilizzato Per effettuare Il penetration testing Ovvero Quelle attività Che vengono utilizzate Per capire Se ci sono delle Falle di sicurezza Nei file Nei siti O in qualsiasi altro Ambiente Di tipo informatico E cosa possiamo fare Ad esempio Su questo file Output.zip Facciamo la stessa prova Intanto Che abbiamo fatto su Windows Trasciniamolo sul desktop E vediamo di capire Se effettivamente Vedete Serve ancora una password A questo punto Direi di aprire il terminale E iniziare un'analisi Approfondita di questo file Molto interessante Non sembra effettivamente Un file zip Compresso Ma un file 7zip Ovvero Un'altra tipologia Di compressione Dobbiamo trovare un modo Per aprire questo file E io assolutamente Non ho il tempo Di provare Tutte le possibili Password del mondo Forse Kali Può darmi una mano Con alcuni strumenti Possiamo infatti Automatizzare Il processo Di inserimento Di password Per cercare di capire Se effettivamente Il nostro file Output.zip Ha una password Conosciuta E soprattutto Vulnerabile Su Kali Linux Esistono delle liste Che contengono Le password Più comuni Ed è proprio Grazie a queste liste Comuni Che vengono effettuati I test di sicurezza Sulla robustezza Delle password Degli utenti Quindi Se il nostro hacker Ha inserito Una password Molto debole Sul nostro file Output.zip E tale password È dentro La mia personale lista Allora forse Abbiamo una possibilità Direi che queste password Come primo tentativo Sono perfette Chiudiamo il file E a questo punto Lanciamo il comando Ragazzi Mi raccomando Non effettuate mai Un penetration testing Né sul sito Né sui file Di qualcuno Se non avete La sua esplicita E diretta autorizzazione Queste particolari attività Vanno fatte Esclusivamente Dai professionisti Per questo motivo Se dovessi utilizzare Dei comandi Troppo particolari Provvederò a censurarli Pensiamo a divertirci insieme E soprattutto A non fare mai Del male a nessuno Con questo comando Ragazzi Andremo a fare Una piccola manipolazione Del nostro file Che andrà a generare Un altro Meraviglioso File Sul nostro desktop Come vedete ragazzi Qui abbiamo Una stringa Di numeri E di lettere Che rappresentano In maniera univoca Il nostro file Non esisteranno Mai due file Che abbiano La stessa firma E questo Ci sarà utile Con il prossimo comando Il prossimo comando Che lanceremo Cercherà di generare La stessa identica firma A partire dalla lista Delle password Che ci sono sul desktop Dato che le firme Sono uniche al mondo Per ciascuna password Se una Qualsiasi Delle password Presenti Nel nostro file Delle password Comuni Avrà effettivamente Una firma Identica A quella sul desktop Allora il programma Avrà trovato La password E quindi ci consentirà Di aprire il nostro file Output.zip A questo punto Possiamo lanciare Il nostro comando Ci basta inserire All'interno del sistema Il formato La lista delle password E il nostro target Premiamo invio E vediamo Quello che succede Attenzione ragazzi Ha trovato qualcosa Potremmo aver trovato La soluzione Il mio programma Ha trovato Hacker is fun Come possibile password Del file zip Una password Molto molto semplice Oltretutto Talmente semplice Che abbiamo impiegato Meno di un secondo Per trovarla Trasciniamo sul desktop Questo numero 2 E cerchiamo Di inserire la password Hacker is fun E vediamo Se ci siamo riusciti Invio Estrazione completata Ragazzi Possiamo proseguire Con la nostra ricerca Doppio clic Sembra un normale File di testo Complimenti a Enfire Vedi che succede A utilizzare password Vulnerabili Che cos'è Una lezione questa Tranquillo Ma non sei ancora Sicuro Perché ora resta L'ultima prova Dai un'occhiata qui Un sito Hacker.enfire.kidnapping.com Io ragazzi Dei siti Ne ho abbastanza Sinceramente Proviamo a copiarlo Fortunatamente Siamo in una macchina Virtuale Quindi in questo momento Dovremmo essere Al sicuro Let's go Ti trovi qui Solo e abbandonato È brutto Per dare ciò Che ti è più caro Vero? Una pagina nera Una cosa però È abbastanza strana In alto a sinistra C'è scritto Che la connessione Non è sicura Che l'hacker Stia in qualche modo Cercando Di farci analizzare Questo sito Alla ricerca Di qualche vulnerabilità Io ragazzi Un tentativo Lo farei Proviamo a testare Se su questo sito Sono presenti Vulnerabilità Di qualsiasi tipo Sembra quasi Che l'hacker Stia giocando Con noi E sul fatto Che le password Non sono sicure Che i siti Non sono sicuri Io ho un tentativo Di analisi Di questo url Lo andrei a fare Con il prossimo comando Ragazzi Andremo a scansionare Il sito Che ci ha fornito L'hacker Nella speranza Di trovare Qualche risorsa O file nascosto Che potrebbe aiutarci Nel ritrovamento Della password Del nostro canale youtube Quello che sta avvenendo In questo momento Ragazzi È una scansione Porta dopo porta Di tutti i servizi Disponibili Sul sito Che l'hacker Mi ha consegnato Dai risultati a schermo Sembra che la porta aperta Sia la 80 Alla 5000 Alla 8080 E tutte le porte Che vedete qui Sulla sinistra Partiamo ad esempio Dalla porta 8080 Che sembra aperta Che cos'è questa roba? Solo la copertina È importante Tutto il resto Non conta Di cosa sta parlando Ragazzi Non riesco bene a capire Che cosa sia questa roba Sono delle lettere Che scendono Proviamo un'altra porta Andiamo con la 10.000 Invio Solo la copertina È importante Tutto il resto Non conta Proviamola 1, 2, 3, 4, 5 Oh Gesù E questo Cosa sarebbe? No ragazzi Non Non mi piace Questa cosa Non mi piace Proviamo con la 50.000 Ragazzi Questa è la maschera Degli Anonymous Chi è quello strano Figuro sulla sinistra? Il messaggio ragazzi È sempre lo stesso Solo la copertina È importante Tutto il resto Non conta Porta 31, 3, 3, 7 Sembra differente Dalle altre Teniamocela un attimo Da parte Prima controlliamo L'ultima Che era la 60.000 Porta 60.000 Il messaggio ragazzi È sempre lo stesso Ma c'è una scritta Errore Ma che succede Se aggiorno la pagina? Ok Forse questa è stata Una brutta idea Con i terminali Non ci voglio più Avere a che fare Ogni volta Che visito queste pagine Cambiano le immagini Di sfondo Ragazzi Diventano sempre peggio No vabbè Ragazzi Io ragazzi Mi butterei Sulla 31, 3, 3, 7 Questa pagina qui La voglio abbandonare Il prima possibile Andiamo Questa invece Ma cerchiamo di Dare un'occhiata Proviamo a selezionare No Sembra che non ci sia nulla Ah possiamo controllare Il codice ragazzi Spezziniamo il codice F12 Apriamo il codice C'è un messaggio Smettila di illuderti Sei benissimo anche tu Che il contenuto Non conta nulla Cerca pure Nelle profondità Di questa tua Patetica prigione Se vuoi ottenere Ciò che ti è più caro Ciò che mi è più caro Cerca nelle profondità Della mia prigione Dobbiamo scendere Più a fondo Nella questione ragazzi La porta corretta Per risolvere questo mistero Mi sembra La 3, 1, 3, 3, 7 Lanciamo questa applicazione ragazzi Potrebbe esserci Effettivamente utile Andiamo a copiare il sito E andiamo a inserirlo Come target All'interno di questo comando Questo comando ragazzi Ci consentirà di andare Ad analizzare Il singolo servizio Nella speranza di capire Se l'hacker ci ha nascosto Qualche file O informazione segreta Al suo interno A tal fine Utilizzeremo Una lista di parole Già presente Su Kali Linux Che contiene Tutte le parole Più comuni Che vengono utilizzate All'interno Delle password E dei siti internet A questo punto Cancelliamo L'estensione del file Togliamo la directory E direi che possiamo partire Andiamo con lo start E speriamo Che riesca a trovare Almeno una risorsa segreta Che ci possa aiutare In questa ricerca Ok dovrebbe aver trovato qualcosa È nascosto Un file segreto Sotto Slash admin Alla porta 31337 Diamo un'occhiata Perfetto Siamo tornati ragazzi Proviamo a digitare Slash admin Diamo l'invio E C'è qualcosa ragazzi C'è qualcosa Persistente il ragazzo Ciò che ti è più caro al mondo Si trova qui E ricordati Di guardarti le spalle Che Che cos'è questa roba ragazzi Sono delle coordinate Geografiche Ragazzi Vedete Nord No ragazzi Queste sono coordinate Geografiche Credo proprio Che dovremmo spostarci fuori Ragazzi Le coordinate Mi hanno portato qui Sembra che sia Una specie di Parco Pare Però Sono abbastanza imprecise Qui ragazzi Non c'è assolutamente nulla Provo a cercare Ancora un po' Ragazzi Il posto È veramente creepy Ragazzi Guardate cosa ho trovato Cavolo Non si vede Perché non c'è la luce Vi accendo la torcia Qualcosa mi dice Che siamo nella direzione giusta Ah ecco C'è un foglio ragazzi Cosa contiene Un altro QR code Complimenti and fire Hai superato Le mie sfide E dimostrato Il tuo valore Troverai la password Del canale Scavando Scavando Ah qui C'è un altro foglio Ragazzi Che Che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non vedo niente di giocare un'altra volta con te.